Nella tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Pontassieve hanno arrestato in flagranza di reato un pakistano 32enne per estorsione aggravata continuata nei confronti di un connazionale. La vicenda, così come ricostruita dai carabinieri, nasce dall'accessione di un'attività commerciale da parte dell'uomo poi arrestato ad un suo conoscente residente nell'aretino dal quale lo stesso si era fatto assumere in qualità di dipendente. Il nuovo titolare è diventato subito bersaglio di continue richieste di danaro dietro minacce di possibili ritorzioni anche nei confronti dei familiari. In meno di un mese l'estorsore è riuscito a farsi consegnare alcune migliaia di euro, praticamente quasi tutto l'incasso del negozio, oltre ad altro danaro che la vittima era riuscita a racimolare da alcuni suoi parenti. I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia della vittima, hanno così monitorato la questione e, a fronte di una richiesta complessiva di altri 2.000 euro, non appena la 32enne ha ricevuto il danaro. I militari sono intervenuti, arrestandolo e recuperando le banconote appena consegnate. Per l'uomo, con precedenti per lesioni personali, si sono dunque aperte le porte della carcere di Sollicciano a Firenze. Nella mattinata sempre di ieri, i carabinieri della aliquota radiomobile hanno invece tratto in arresto per evasione una quarantena di pontassieve ai arresti domiciliari dallo scorso novembre. L'uomo, autorizzato ad assentarsi solamente per poche ore, non aveva fatto rientro alla propria abitazione, trattenendosi in un bar del centro. Inevitabile dunque l'arresto per evasione. Alla visione dei militi, l'uomo ha inoltre rivolto ai carabinieri frasi minacciose ed ingiuriose, comportamento già tenuto in altre occasioni. L'uomo è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Sollicciano.